Cari fratelli e sorelle, le feste del cuore divino di Gesù e del cuore immacolato di Maria, che celebiamo l'11 e il 12 giugno, ci aiutano a comprendere meglio il brano del Vangelo di Marco, che ascolteremo domenica il 13 giugno. Infatti, cosa è il seme seminato dall'agricoltore, se non il verbo, la parola di Dio, che il Padre ha seminato nella terra buona del cuore immacolato di Maria? E cosa vogliono dire i risultati assolutamente superiori a tutte le aspettative della semina, se non quell'espulsione di luce e di vita che è stata la risurrezione? Dal cuore fiammeggiante di amore del Divino Risorto, infatti, si è innescata come una reazione a catena la potenza dello Spirito Santo, iniziando quel processo di trasformazione dell'universo intero che nella Chiesa trova la sua punta di diamante. Cari fratelli e sorelle, è tutto per oggi, ciao e Dio mi benvenuti a sempre.